segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te che idea si è fatta di questa vicenda anche perché l'atto d'accusa del partito democratico e di Gualtieri è molto chiara insomma c'è qualcuno che vuole remare contro di noi e contro le nostre politiche per i rifiuti lei è uscita dal movimento 5 stelle che contro il termo valorizzatore si è sempre battuta avete cambiato idea voi che siete oggi con Di Maio ma sarebbe sbagliato pensare che chi oggi ha fatto una scelta che è quella di supportare il paese il governo abbia cambiato le proprie idee su tanti altri temi però adesso al di là del termo valorizzatore di Roma io ricordo che questi problemi li ebbe tanto anche Virginia Raggi il problema degli incendi a Roma non è un problema novello non è un problema che riguarda soltanto il sindaco Gualtieri a cui io faccio il mio in bocca al lupo perché gestire una città così laddove addirittura ci fosse la mano dell'uomo laddove fosse stato doloso come incendio io ovviamente tifo sempre per i cittadini e in questo caso anche per l'attuale sindaco così come facevo quando sindaco era Virginia Virginia Raggi e ci mancherebbe altro. Ignazio Larussia siamo